Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove ci sono code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In FIPILI code a tratti tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Livorno, code in uscita alla Strassigna e in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze e in uscita a Cascina provenendo da Pisa. Rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze fino al 20 aprile restringimenti a tratti per lavori in piazza Gavinana, Viale Giannotti, Via Giovanni dalle Bande Nere e Via Caponsacchi. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!